Perfetto, eccoci alla terza sezione di gioco di Jade Empire, io sono Marth e ok nella Swamp, oh mio dio la Swamp, sì, ho visto il l'ultimo pezzo di gioco di Weston E più o meno, sì, mi ricordo la storia, scusate, ogni tanto il volume è un pochino alto, quindi faccio fatica a concentrarmi In teoria dobbiamo farlo Ah ecco, non ve l'ho detto, io sono una mezza sega Quindi non vi assicuro sull'esperienza di gioco in sé per quanto riguarda la quantità del combattimento Il resto dovrebbe andare più o meno bene C'è qualcosa qua dentro? No, tutto bello abbandonato Oh che bello, fa sempre bello Quindi? Sempre piacere trovare questo tipo di cose Il gioco, scusate, è in inglese Ma ho deciso di tenerlo in inglese per il semplice fatto che I sottotitoli in italiano e sentire le persone che parlano in inglese mi manda abbastanza in palla Quindi farò un mini-sunto dei vari dialoghetti, eccetera In modo che anche chi non parla in inglese possa seguire Però devo per forza tenerlo così Altrimenti non riesco a capirci una mazza della storia E quindi la persona che ci troviamo è andata via Quindi chiediamo cosa è successo Quindi è un contadino E io non ho preso la figlia Proviamo Proviamo ad aiutarla Magari... La ritroviamo nello stesso posto In cui... Sta calmo adesso Vediamo se la troviamo Io non so che cazzo farci Non so manco dove stavate andando Oh Dio E chi è adesso? Questo muscolazzo Ok Va bene Va bene Chi cazzo sei? Ecco appunto Chi cazzo sei? Hold your attack young student I am not your enemy This was... A misunderstanding A misunderstanding? Ma non sembrava a me che ci fosse qualche preintendimento Però ok Ecco Chi cazzo sei? Quindi 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 mi hai visto mentre stavo facendo i miei elementi È un nome che condivido con il primo imperatore Sagacious Tien Ah Quindi Tu conosci l'imperatore? Suppongo Ehm I don't picture us Ehm Sì Diciamo perché sei qua Se non sei un nemico Ehm Ok Ok Quindi a quanto pare Non Non si sente Parte dei contadini Ma allo stesso tempo non è il nemico Perché appunto stai facendo il culo ai mercenari di Gao Quindi Perché? Li faccio il culo? Sì conosciamo la famiglia Ehm Non lo so Beh sì Ovviamente C'è il fatto che Gao Era uno studente qua Quindi Ci avrà portato una marea di scagnozzi Ehm Ehm E in realtà Ha pure rapito quella persona Ehm Esatto Esatto Sì sto cercando di 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 Sì 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 Sembra uno che Penso efficientemente Sì Sì Sembra uno che Penso efficientemente Quindi sono venuti loro a romperti il cazzo Ehm Magari ce lo portiamo Ce lo possiamo in effetti portare dietro Nella Sto vostro De merda Ehm Magari lo conosce meglio Ah grazie Ma tu Serbia qualcosa? Esatto Esatto Almeno se la vedi fammi sto cazzo di piacere Don Star Ehm Familiare con questo nome Ma ancora non posso Ho spento un lungo tempo evitando problemi Non voglio andare a guardarlo ora Sì vabbè ti chiedo un piacerino Non è che devi Ah ste stronzo ste faccia di merda Ah adesso lo sai Ok Quindi Quindi a quanto pare Si è convinto da solo E c'era questo gruppo di uomini Che aveva un Un Paco Che Piuttosto Largo Che gli dava problemi E quindi vediamo se questo qua ci Ehm In effetti Perché dovrei crederti Se ti sei rifiutato prima? Però vabbè almeno c'è un pochino di Grazie No non ti conosco Sto conosciuto No non ti conosco Sto conosciuto Come ho detto Non possono uscire dalla marsh A piedi E a quanto pare Sono andato E lui Grazie Io non sei Vabbè 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 Quanto pare Ci sono un tot di soldati in giro Nella Quattro 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 Quindi Altri uomini di Gao Che si lamentano di questa persona Che non ha capito che cazzo sia Poi Get them Yes get them Get those bitches Credo che siete veramente Dice Ma che vi hanno tirato su A In voltini Primavera quindi i banditi avevano assaltato il carro del marito di questo qua e ovviamente i soldati poi gli scagnozzi di Gao avevano preso in ostaggio questa persona Beh sì in effetti sì Ah questa era la Fen, ah era la moglie Sì in effetti non mi ha, oh cazzo Sì sì oh cazzo Sì mi spiace Un fallo per me va benissimo Quanto pare questa tizia qua non sapendo chi sia non è Fen e probabilmente è La moglie di questo qua Di quello che abbiamo incontrato prima E questa cosa è incazzata molto Il nome di Fen È la mucca Ma stai a scherzà Ma Cristo Ma sta a far cura va Sì Era la mucca Vediamo se avete visto Avete visto Gao passare Ah ok Ok Ok, quindi probabilmente abbiamo un po' di argento di ritorno. Do I have to slaughter that thing for you to show me some attention? Poverina. Are you lying again? No dear. Are you listening to me? No dear. Hell has no wrath. Quindi a quanto pare parlavano dell'accampamento Nord sempre, gli uomini di Gao. Però può essere che forse non è il Gao che stiamo cercando noi, quindi non Gao the Lesser ma Gao the Elder. Quindi. Si. Io invece so che voi siete in voltini primavera travestiti con un pochino di arma. Vieni qua, vieni qua che t'ammazzo ti faccio fare diventare un ghiacciolo umano. Certo che anche tu sei veramente inutile in combattimento, cazzo. Ok. Ecco. Dimmi cosa stai. Ok. Dove cazzo è Dawnstar? Chi? La moglie. Si è scoperta dal sacco e si è riuscita nella cava. No. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh no. Oh. Nooo. Adesso non ci vuole. Nooo. 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 Questa è portata a rifugiarsi in una grotta. Ovviamente. Che non è una grotta normale ma infestata dalla peggio specie di demoni e creature strane. E Gao è andato a cercarla. Quindi, perché l'ha rapita? Non lo so. Hanno solo detto che era molto importante che con loro vado a la mattina. Ha portato un po' di gruppi di noi per la sua. Ah. Non l'avamo portata. Havavamo fatto Gao anche fare. I know we shouldn't have let him talk us into any of this But he doubled our pay Vabbè siete solo dei poveri stronzi Minchia Quindi a quanto pare Gao doveva rapirla stanotte Rapire Dawnstar stanotte Era importante che lo facesse con questo tipo di tempistica Loro si erano rifiutati di farlo E quindi Gao l'ha rapita lui stesso Però a quanto pare A quanto dice il soldato Non è la peggior cosa che abbia fatto un membro della famiglia Gao Nell'ultimo periodo Quindi è Vabbè senti Se tu sta zitto Cioè c'è un cazzo Chiede di risparmiargli la vita E di non mandarlo dal padre di Gao Perché altrimenti Vabbè Massacrato di volte Ehm Facciamola andare E tu devi stare veramente zitto Ecco spero che davvero non ti vedo ancora di nuovo Perché Che cazzo è sta roba Ma va Ma è un elicottero Ma che è Ma che carino Proprio bellino Proprio bellino Bones Ma va Bucio di culo Ma se noi tipo lo mettiamo sulla Sulla muleto Possiamo metterlo sulla muleto Quindi Non mi ricordo quanto Spirit 2 C'è la chance Of cheap power service Ehm Boh 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 Ma facciamo che le mettiamo su tutte e tre Ne abbiamo tre Ehm Che tanto Mica fa male Ehm C'erano delle barro Qua io voglio vedere se c'è qualcosa Ah Schifo 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 Tentiamo Ma baffanculo Direi che qua non si può Entrare Quindi Proseguirei Facciamo che Facciamo un salvataccino Perché Ho visto quello che c'è scritto Ehm Qui Sì Ehm Minchia Ok Level up Level up Ma io tipo posso spendere i punticini Eh C'è un po' di punticini da fare qua Ma Facciamo una cosa tipo Che ne spendiamo Un Paio di qui Sulla Cost D.U.C Damage increase Duration increase Facciamo così Facciamo uno così Ehm Sì In effetti non è male Spendere meno C E direi che va bene così Save the changes Yes Ehm Thousand cuts Perché abbiamo Tipo le Come si dice Le hand weapons Cristo Ehm Facciamo Cos'è che c'è qua Duration increase Facciamo Aspetta Dammi se non è Ehm Beh La staff La usiamo Veramente tanto Quindi Facciamo un mini Un mini Tipo Damage Tanto perché possiamo Ehm Save the changes Yes please E tipo Possiamo No Questa non sarà un cazzo Veramente Ehm No Direi che facciamo così Ehm E poi Magari Quando saliamo di livello O Saliremo di livello Ancora Bene Oh cazzo Minchia Eh Certo che c'hai veramente Una faccia da cazzo Viene qua che ti faccio il culo a strisce It's always someone else's fault isn't it Gao This is your mess I didn't make you kidnap me Oh that's for sure Your friend is doing a good job of frustrating Gao into carelessness That will work in your favor But it also means we have to follow them by a different route Oddio No No Quanto bar ovviamente Il La La frana La frana Fa Fatto in modo che Non possiamo passare Dove Sono passati loro Quindi ci becchiamo tutti gli amici Di nuovo E beva Ma se io andassi a sinistra Ah porca puttana Pensavo peggio Forse meglio Se ne Se ne Prendiamo uno alla volta Ma sto Robino qua Looks tasty Quindi No Direi di no Quello lì è stato un bonus Una scorciatoia Quindi Di lì Si può passare Ma ci sono un paio di Di Cassa Andiamo a vederle Tipo Ma se io facessi così No Allora Ok Dai ye Tu un cazzo Vero Va Quindi Sperando che non sia un'altra trappola Ecco Sapevo L'ho chiamata proprio Però Oh Si Un'altra gemma Un'altra gemma Si ok Vabbè Sta tranquillo con i punti Che Che è sta roba Uh ma che bellina Più due spirit e due charm Ma se io Togliessi tipo Questo Cazzo No Sbagliato Scusate Ma io Ma tipo Non è che posso Mi sa di no Fatto una cazzata Fatto una cazzata Reorder No ti prego Dimmi che non è vero Porca puttana Vabbè Non sarà per me Decidere Mi spiace Della patata bollente Che lascio al prossimo Ma sti cazzi Non avevo Cioè Normalmente Questo tipo di cosa Le voglio togliere Nei giochi Un po' più Avanzati Chiamiamoli così Più recenti Ma Vaffanculo Cos'è che Ma va Buscio di culo Sì Quindi abbiamo ricevuto Uno stile Così Niente qui Ne va avanti Che secondo me Sì Grazie Salvalo Perché veramente Aspetta Facciamo anche Facciamo un salvataggino Noi Giusto Per non Fare Cazzate Cazzate Dagli Sì Ma tu che ci devi fare Con questa qua Sì Vengo a farti il culo A strisce Vengo a farti il culo A strisce Non c'è l'opzione Vengo a farti il culo A strisce Oh sì Facciamo una cosina Così molto romantica Can you even Can you even Can you even I did you a favor But you are too stupid To know a good thing When you are in its grasp Quindi Ma non ho capito Perché l'ha erotida Ok Ok Cazzo gli hai fatto sto stronzo? Ha minacciato una cosa tipo Tutto quello che avevi Non ce l'hai più perché mio padre Ci ha messo le mani Quindi Ok quindi suppongo si può Ah Ah ok Quindi da quello che ho capito Da quello che si potrebbe intendere Il fatto che il padre di questa testa di cazzo qua Non si sa se abbiamo andato magari lui tipo infiltrato Ma comunque cercava di scovare il maestro Il gran maestro di tutti questi cazzi Credo che probabilmente vorrà distruggere il villaggio E in realtà il rapimento era un salvataggio Esatto Vieni qua che ti sfragi con gli occhi No perché Zu ti dice ciao ciao ma proprio in un minuto Quindi magari Don't Star E' una scelta difficile Perché se dico La vedo stronza E' una scelta difficile Dai Cula strisce E' perché è uno stronzo Ma c'è qualcosa che succede qui? Sì Sì Andiamo con il romante cisa Non avrei mai potuto fare Che cosa ti succedesse Eh esatto No è uno stronzo qualunque Sì si è stato Utile come un secondo buco del culo Perché sei via dal villaggio Stronza Sì Andate indietro perché Magari No Sì Cioè Sì però No Eh Ga Era l'ultimo stronzo Allora Allora Io questo stronzo Non me lo voglio dietro Quindi facciamo che lo mandiamo Lo mandiamo Su Seguis Su All'entrata Cazzo All'entrata Sì E noi ci Ci spartiamo la cosa Praticamente Sbaraccati dai coglioni Cioè Veramente Allora Facciamo un salvatino Che Sì Va bene Che non fa mai male E Poi ci sono un po' di cose Per il focus Per il c Per questo grandissimo Un paio di cazzi Sì Allora Vediamo Vediamo se C'è Prendere Quella L'unica Con la Trappola Vipers Un altro Sì Forse Che merda Che merda Che Ok Quindi Dobbiamo Trovarne altre tre Per fare L'eye of the vibe L'occhio della vibra Vabbè Ok Quindi Soprano Ok Neo Io non vedo Nient'altro Devo dire Ma che bel Posticino Però Fondino Sono carini Devo dire Molto Star Wars Allora Lei mi segue Vero Tu ci sei Sì Io quel cosino Non c'è Quell'arrostino Lì Non Me ne far Mangere In confezione Ma non ho capito Che è che c'è Ma non ho capito Ste cazzo Dei simboli Vabbè Facciamo di non cadere Adesso proprio Che abbiamo Finito Il combattimento Certo che era veramente Un mezzaseghino Guarda Guarda Che faccia La sponza Sì Perché erano Un giro Come stronzi Dice Non sapevo Del rischio Che è Pensato Che era Finita Ok Sì Loro hanno Scelto Una Un corso D'azione E io ci sono Andata Sì Mi spiace Però No Non ti seguivano Dentro Perché Guarda Che posto Di merda Te ho detto Eh Ah ecco No Non credevo Una cosa Così pesante Però Insomma Che figa Che poi Cioè Gli zeppelin Non No Non Grazie.